Al chiuso, sì, fino a che non si vaccina. Io sono d'accordo. È una cosa per cui rido, cioè siamo proprio al nazismo. Sarebbe a mettere i chiusecchiali a casa. Hanno rotto i coltoni. Aumentano i contagi e torna la paura per il Covid e si inizia a parlare di nuove restrizioni per i non vaccinati. A ipotizzare la stretta Guido Rasi, ex direttore dell'EMA e consigliere del commissario Figliuolo. All'orizzonte il modello Austria, che limita solo chi non è vaccinato. Un lockdown mirato mi sembra un po' eccessivo. Se sono non vaccinati è giusto che siano penalizzati. Qualcosa si dovrà fare. Ha paura? Sì, se ci sono la schera. Oltre a non vaccinarsi non si mettono le mascherine, fanno gli assembramenti. E quindi sono pericolosi. Troppo duro? No, no. Va bene. Va bene. Perché io mi davo a valare per uno che non si vuole vaccinare? Non sono d'accordo perché lo trovo una forma di discriminazione. Non mi frega niente. Fanno come gli pare, basta che non rompono le scatole che vogliono andare al cinema, in treno. Così va bene. Non voglio essere cattiva contro i Novaks. Però sono loro quelli che ci vogliono portare. Che ci portano? Ci portano a un altro contagio.